L'economia dei territori di montagna passa anche attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici delle sue attività tradizionali, come l'allevamento bovino e l'alpeggio, che in Valle Seriana producono un tipo particolare di formagella. È imminente la firma di un protocollo d'intesa con la cooperativa per poter impegnare dei fondi della provincia, della comunità montana, che in compartecipazione con la cooperativa stessa intende mettere a punto un piano di stagionatura attraverso un apposito locale. Verrà acquistata la cella e quindi verrà predisposto il locale per la stagionatura di questa formagella che dovrà essere almeno 30 giorni. Il locale non è ancora stato individuato ma intendiamo comunque andare verso la media alta valle. I tempi di realizzazione sono abbastanza stretti perché noi avremo tempo, un paio di mesi, quindi fino a febbraio, per raccogliere l'adesione di almeno 15 produttori e da lì poi partiremo con il progetto, con la stagionatura che dovrà avvenire entro il 30 di aprile. Un'iniziativa accolta di buon grado dagli addetti ai lavori, che vi vedono un'occasione da non perdere ai fini della valorizzazione del loro lavoro. È un passo fondamentale per ottenere un prodotto sempre più omogeneo perché le aziende stagionando ognuno a casa proprio comunque chi ha la cantina troppo secca, chi ce l'ha troppo umida, chi non l'ha proprio, i prodotti comunque alla fine sono troppo diversi per cui è fondamentale avere una stagionatura comune e soprattutto uno stoccaggio in modo che i fuoriprodotti avendo comunque le loro peculiarità di prodotti assolutamente tradizionali e tipici devono avere anche un minimo di uniformità e la stagionatura aiuta molto in questo. Forse la cosa assolutamente unica della nostra formagella, quella che facciamo noi in cooperativa è che l'unico formaggio marchiato non prodotto da un caseificio, per cui è un prodotto assolutamente tradizionale prodotto da allivatori nella loro azienda, per cui è il classico nostrano. Grazie.